Un documento per programmare l'azione amministrativa dell'ultima parte di consigliatura e un confronto sul futuro della città con i consiglieri di maggioranza. Il programma del conclave nel quale il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha riunito tutta la sua giunta all'aurum di Pescara. Tanti temi trattati a partire dal triennale delle opere pubbliche passando per il bilancio e la manutenzione della città. Sembrano essere alle spalle le polemiche eseguite all'ultimo rimpasto di giunta che non pochi grattacapi ha creato sia il primo cittadino che è ai vertici del PD. La nuova squadra di governo, dice il sindaco, deve riprendere con slancio l'azione amministrativa per finire nel migliore dei modi il quinquennio arrivando pronti all'appuntamento elettorale. A due terzi del nostro mandato elettorale consumato dobbiamo definire un'agenda di fine mandato. L'agenda di fine mandato sono gli obiettivi strategici di qui al giugno 2019 allorché ci saranno le elezioni generali e significa elaborare un documento che poi approveremo anche con un atto di indirizzo di giunta in cui fissare i temi prioritari. I temi prioritari sono sempre quelli volti allo sviluppo e alla crescita della nostra Pescara. Dalle occasioni di trasformazione urbane ancora aperte, penso alla questione del risultato, alla articolata partita sulla urbanistica e sulla mobilità che sono argomenti connessi. Poi c'è naturalmente il tema dei servizi da erogare in modo sempre più efficace e direi anche congiunto nella prospettiva di aria vasta e di grande pescara che arriverà a breve. Questo è ciò su cui ci confrontiamo con una seduta mattutina in cui ci sono l'illustrazione da parte dei singoli assessori con naturalmente un'introduzione del sindaco degli ambiti di competenza e poi il pomeriggio di discussione e confronto con i consiglieri per appunto poi procedere alla redazione di un documento perché è bene che poi rimangano tracce documentali per l'appunto sul cosa fare per i prossimi 20 mesi. Ci approssimiamo alla fine dell'anno chiaramente arriva il bilancio, Pescara da questo punto di vista insomma è un comune in predissesto, quali saranno le linee guida? Pescara è un comune in predissesto ma non da oggi, noi l'abbiamo deliberato ufficialmente il 30 marzo 2015 e quindi noi proseguiamo su una via di risanamento dei conti che però già dal 2018 offre delle opportunità perché le previsioni di legge sono quelle per cui nel triennio iniziale ci sono contrazioni della spesa legate anche a previsioni di tagli lineari disciplinati ex legge, aumenta la nostra capacità di spesa che significa poter investire di più su una cosa che ci sta molto a cuore cioè la manutenzione urbana che deve essere la più grande opera pubblica della città e per la quale c'è bisogno di risorse sempre più adeguate e poi la fine dell'anno insomma ci vogliono ancora dei mesi poi faremo naturalmente tutti i bilanci del caso. Grazie a tutti.